Sempre più colore, sempre più personalizzazione, ma senza trascurare un pizzico di divertimento. Fix Your Bike è nato dall'idea dei designer Valentina Antinori e Danilo Leonardi. Si tratta di un kit per personalizzare la bicicletta, puntando su un impatto minimo sul telaio. Infatti non è necessario intervenire con la verniciatura della struttura, ma basta attaccare dei film polimerici a lunga durata con diverse combinazioni grafiche e cromatiche. Il risultato è splendido e innovativo e ci permetterà di avere quel tocco chic per essere ancora più riconoscibili tra le vie della nostra città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!